Buongiorno a tutti i soci AIS. Scriveva Nicholas Luhmann nel 1975 a proposito del futuro della pubblica amministrazione, si apre la possibilità di una automatizzazione dei processi decisionali, ma l'ordine delle fasi decisionali, pur nella prospettiva di una trattazione razionale dei problemi e nelle elevate probabilità di ottenere risultati utili, difficilmente potrà avere una forma che produca l'optimum, cioè gli effetti richiesti e al tempo stesso trasmettere al cittadino la sensazione di star partecipando a qualcosa che gli appartiene. In pratica, avverte Luhmann, la pubblica amministrazione non rega con sé il peso della legittimazione. Cos'è la legittimazione in senso luhmanniano? È la disposizione delle persone ad accettare decisioni ancora indeterminate nel risultato. Questo, cioè la legittimità, è un compito della politica, mentre l'amministrazione, nella differenziazione funzionale della teoria dei sistemi, spetta il compito di semplificare la complessità. In una società altamente civilizzata, spiegava Luhmann, politica e amministrazione si differenziano come articolazioni del sottosistema politico, gestendo la complessità e al tempo stesso reggendone il peso della legittimità. In parole povere, la pubblica amministrazione ci semplifica la vita e la politica rende accettabili quelle decisioni, o meglio quelle regole che vengono poi applicate ogni giorno dalla pubblica amministrazione. Le parole di Luhmann sembrano profetiche, con preso il riferimento all'automatizzazione delle decisioni. Sembrano adattarsi al volto della riproduzione sociale delle pubbliche amministrazioni nel secondo ventennio del ventunesimo secolo. Andiamo a vedere la pubblica amministrazione italiana. Abbiamo l'APA digitale, abbiamo il concetto di Digital First, abbiamo i tanti strumenti dell'incontro tra ICT e pratica dell'amministrare, cioè il cloud, le applicazioni, l'anagrafe digitale della popolazione residente, lo speed. E proprio su questo strumento che tutti conoscete e che oramai è posseduto da circa metà dei residenti in Italia, che vorrei orientare uno sguardo sociologico. Sempre partendo dall'Human sappiamo che il sistema politico, che il sottosistema politico nella teoria dei sistemi possiede tre articolazioni, la politica, l'amministrazione e il pubblico. Queste tre articolazioni sono in un rapporto comunicativo e circolare fra esse, differenziate ma contigue. E proprio lo speed, il sistema pubblico di identità digitale, cioè che nasce come passaporto digitale per accedere attraverso un riconoscimento dell'identità a tutti i servizi pubblici online, delle pubbliche amministrazioni, che a mio parere è sociologicamente la saldatura tra il dominio della razionalità amministrativa e quello della legittimità politica. Infatti speed dallo scorso luglio non abilita solo ai servizi amministrativi, ma anche ai diritti politici e costituzionali. Grazie a una modifica normativa è possibile farsi riconoscere come sostenitore firmatario di un referendum di abbrucazione di una legge attraverso l'identità digitale. In pratica è lo strumento speed che ha permesso al referendum anche importanti, che poi andremo probabilmente a votare nella prossima primavera, al referendum anche importanti di poter ottenere in poche ore le firme necessarie per poter andare alla Cassazione per poi per la successiva validazione. E parlo dell'eutanasia, della legalizzazione della cannabis, dell'abbrucazione della caccia e di temi di questa direvanza. Quindi questo è solo l'inizio, speed si sta evolvendo, in un certo senso ha una dimensione autopoietica, diventerà sempre più necessario per ottemperare all'esercizio di alcuni diritti politici come la raccolta delle firme per poter presentare le liste alle elezioni. E già c'è chi parla della possibilità di un voto politico a distanza autenticato da speed. Quindi lo strumento sembra racchiudere in sé l'ampia razionalizzazione amministrativa e l'alta legittimità data dalla partecipazione a un processo politico. Però questo è solo in teoria, e qui vorrei mettere una piccola riflessione, uno sguardo sociologico empirico, bisogna tenere conto che speed è un servizio pubblico ma è gestito da privati. È lasciato in concessione allo Stato, alle società private, per i primi anni vi era un accordo che prevedeva il costo zero per i cittadini, oggi questo accordo è stato liberalizzato, in pratica ogni azienda, ogni fornitore di identità digitale può richiedere ai cittadini qualunque prezzo voglia. E preoccupa che il maggior fornitore di identità digitali, come le poste italiane, richieda dal primo novembre 2021 un contributo di 12 euro a quei cittadini che si recano allo sportello dell'ufficio postale per richiedere speed. E un sociologo direbbe che chi sono questi cittadini? Sono ovviamente i gruppi più fragili, gli anziani scarsamente informatizzati, i migranti, le persone in situazioni di marginalità, le persone che vivono in aree con una scarsa connettività. Quindi da un lato speed diventa l'abilitatore di diritti di cittadinanza, rilanciando un ruolo pubblico di legittimazione procedimentale, per dirla la Luman, e dall'altro riproduce con la sua gestione privata situazioni di ineguaglianza ed esclusione, andando a ledere anche dei diritti universali. La riproduzione sociale dell'istituzione pubblica e amministrazione si configura sempre di più nella digitalizzazione, ma se non governata con sapienza e, mi permetto di aggiungere, anche con uno sguardo sociologico, rischia di condurre, se non addirittura amplificare, le diseguaglianze, le forme di esclusione che vengono dal mondo analogico.